Gol del momentaneo 2-0 in Fiorentina Sassuolo, ma tante voci di mercato per Martínez Quarta Larga vittoria della Fiorentina di Vincenzo Italiano contro il Sassuolo di Davide Ballardini, in grande crisi e al penultimo posto nella classifica del campionato di Serie A Uno dei giocatori che è riuscito a bucare il portiere nero-verde Andrea Consigli è stato Lucas Martínez Quarta Quinta realizzazione in campionato per il 27enne difensore centrale, mentre sono 8 in totale i gol realizzati in tutte le competizioni Un bel bottino per un calciatore che gioca nel reparto difensivo E che sta attirando su di sé le attenzioni di diversi club . Milan e rinnovo, tutto su Martínez Quarta.L'X River Plate viene accostato con insistenza al Milan, che ha decisamente bisogno di rinforzi in difesa Ma, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, ad oggi non risultato con tatti diretti o indiretti tra le parti Allo stesso modo, tra la Fiorentina e l'antourage del giocatore non c'è, ad oggi, una trattativa in corso per discutere del prolungamento di contratto, in scadenza nel 2025 Ma non viene esclusa la possibilità di arrivare ad un nuovo accordo, non c'è chiusura su questo fronte Situazione da monitorare quella di Martínez Quarta, vi terremo aggiornati